Musica 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 quando vuol lì come getterci guarda aiii guarda me guarda me a lechè nei foto eue me fono e'gno e'gno di boite e, domda ehi io Schia Down Giorgio Giorgio Borg Giorgio Ibuon Ibuono E'nion Mele Educate congressional Giorgio Ibuono Ibuono Oida Frazi S 6 ha нопone ma fono play ama ago ciboi le pesce mto de qua nianu si chuchu chuchu e ne jona ginama vivi ha fiene dokwe ginambe nye dekaku vivi e ne nye e se Pleaseco, Bello! Sì. Ok, come e? No! Viene passanti! Viene passanti. Va bene? No, no! Viene passanti! Viene passanti! Ah, come ti sei? Ehm, me ligno. Egnon! Allo, c'est qui? Udu. Eh eh, Udu. Non c'est l'unico global, eh... U-T-U-A. Hein? Eh. Udu, non c'est? Allo? Eh eh eh, ta flatte. Je ferme melelo. Nuka ema tu avanao. Nme gati diyo. Hey. Mau. Nuka nisiamo. Nuka nisiamo. Nuka uniamo. Nuka uniamo. Hey. 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 Uuuuh. Mmm. Hey! Nuka enyesia? Nukata emewo cha chesia pu mevii? Eh? Metiraba ya? Hey! Evo namvo. Voo, nukata. Nukata emewo cha chesia pu mevii dou. Nukata, eh? Hey! Nukata, Nukata, eh? Voo, wifi, rilboa cha chesia pu meviiening hat! Hello! Hello! Heei! Hi,ıyorum. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non P声iquito malo! Cosa siausระ sospender Wille! No no no! Di Himmè? Ti fa prendete Lina? Non non ho potuto che ricorda Irish! ka go ti bu y'e de ka qui via han ha ha e tu buvo stunning a どll避 gabme banh è niente tv visrah signals è più po po vivia e lè brevver 40isti di john mai nuka ados janama edsi avevvidede il mudar Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Oh, necai, necai uglo. Ebbene, ti hanno goni e chona i isi, mme giro. Aleke, aleke mele sia oggerifusia. Hey, nonno messia leggi gamnam. Oh, hey, yesu vahwannam lo. Oh. Oh, no. Ma si si bene che non be, non be, non be, non be. Ah, vieni lolo, edoula che be, non be, non be, non be, non be, non be, non be. Ma non be, non be, non be. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non se ci sonoасi di serena su niente o che i fichino un bambè i vio che si fanno si mi piace non hai l'impostato non hai l'impostato ha le tanni qui sanno il fanno il fanno No, c'è sempre lì. Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. 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 Non c'è lona, lona, nipua, lona, lona, nionu, Nio kata, bo tu matama tommyennye, Ninti nyan, Toherea, nennye benedoga, benye keenea, Ndye messi uwea, no zangplewa, Sieta, monga bufomio, Monga bufomio, loloa, Ah, loloa, va, 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 fissia, Va, 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 fissia, mi-déh. Eh, c'est ditteminielou? Eh! Monga, Ndjoun, j'ai oublié Nema, Je t'ai oublié de moi. Mathias, c'est ce que je suis en colère, Nnate, vous n'avez pas de soucis, Il est un peu plus élu, E l'e ne drombe manan kakessia, wajwa va ibla, ele be wajwa ibla, bai choppon kikia wava Suswi si a po, chwana e kai na ideja no doma dota si aona uapetua E si a kubina jayama nu, ele nu umegbia, nu si anu uenu, evo, nyemagala wageko Admasio kechona na madmana, gareke ma huataye vofistia, nusile nyomia Internet mfuteva kbanotarina doki, nyemagala wageko Dottoum, le maddi di mea, nes le son dege, nes le onto pou me duge, ntouma pou me vina nina son plé viye owa Nye me le ffeu mou, nye te ffutou mmele, e wwe mwk biha, nes si ffeu mmele, nye me nyeam si ke gare nye ssoumo Mme ke jomu yale wk ben nye ke ssoumo twa, nye ke jomu yale wk biha, nye ke ssoumo twa A leke ma tiacho, dutubissi dege mmele ya, nabwa dompe nye ffutos enveu son Mme, ui mme, nye....nyeh, nyeh, 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 nyeh ! Heyi, nyeh wk mmele, me nyeam si tamerisha et ttenda kk leswk weiwkwa Si trattavi i miei primi rischi di nuovo, Perchè sonore e più a tutti i miei nomi le winner. Quindi je asciengono con Voici Ema, che ti chiedo dite dite a seconda di mia, in modo di essere una mia. Possiamo aver guardato l'oggetto, come hai passato. Ma non fai rispondendo nel livello. Se qualcuno ha è così non ha così non ha, c'è tutto quello plico. Faicire che io ho seguito fino a lui. Ok. Poi che io ho poi racconto, loro sono cotto, tra quelli che ha chiamato un pò che rito che ha chiamato! Ok, c'è un po' che vedo. Cosa? Ufina? Inoltre, adesso vedeHHARONE. Ufina che ci vuole. Non,5 milioni a venduto. Se sei la sua è la mia? Se sei la mia voranza. Esa si è la sua! Cosa è la mia? Una sua mente, una mia voranza. Dottom è il proprio signore Non c'è se quita���o Non c'è un paratro Non c'è un paratro Non c'è un paratro Dottom Non c'è noi Non c'è qualcosa Si ce c'est un paratro Non c'è quello né Eeeh Non c'è me lo pombierà Non c'è un paratro Non c'è tutto Non c'è Non c'è un paratro Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Grazie a tutti.